Allora, siamo qui con Raidel Ieresuelo, Piacenza vince a Monza 3-1, vince in maniera molto convincente. Vi confermate una mina vagante di questa Superlega? Sì, noi ogni mattina siamo riusciti a fare qualcosa in più. Speriamo, adesso siamo in quinto posto, speriamo far bene in questa Superlega. Adesso vi viene voglia di guardare anche più in alto in classifica? Sì, ogni giocatore vuole sempre stare in prima classifica, ma noi sempre pensiamo in ogni partita, vincere ogni partita e fare il meglio di noi. Come avevate preparato la partita di oggi? Sì, oggi sapevamo che questo placeto è duro. Niente, abbiamo avuto un po' di pazienza e alla fine siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare. Si chiude il girone d'andata, prova a dare una valutazione sia sul cammino di Piacenza sia anche sul tuo cammino personale. Il nostro cammino è arrivare il più lontano possibile, arrivare in ogni partita e poi vediamo. Perfetto, grazie a Raider Ieri Svelo. Prego.